Buonasera, buonasera a voi tutti, a me buongiorno, perché la mia giornata è iniziata adesso. Allora, vediamo un po'. Mi accendo intanto il tablet, così riesco a leggere meglio le vostre domande. Allora, vediamo un po'. Intanto, come va ragazzi? Come va? Come va? Come va? Ok. Chi c'è? Chi c'è? Non c'è ancora nessuno. Io non riesco a aprirmi ogni volta. Chissà perché. Non riesco a aprirmi la live. Qua sul tablet. Eccola. Eccola, eccola, eccola. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Piccoli aggiornamenti oggi, ragazzuoli. Ciao, una strana SPHC, ciao Massimo, ciao, 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 ciao. Allora, piccolo aggiornamento. Finalmente, ho finito di lavorare da desano questa settimana. Uh, questo ciuffo mi va sempre su. Mannaggia questo lente. E questa settimana, ecco, ho finito di lavorare da desano. Ho detto che per adesso basta. Perché mi servono, mi servono due day off. Ma, vorrei capire perché sono tanto alta. Ecco. Mi servono due day off, due giorni di riposo. Perché sono tante ore qua da party beer. Quindi, il mio corpo mi dice, Karen riposati, Karen riposati. E dopo vi spiegherò meglio per il video di venerdì o sabato. Non so quando vi si va, comunque sia. Ma, lì vi spiegherò meglio. Anche perché sono andata via. E, però, nello stesso tempo, quel ragazzo che, che lavora lì, che parla anche italiano, che ho conosciuto all'inizio, proprio quando ho lavorato da desano, che me l'ha raccomandato vita. Max, mio caro amico Max, che adesso ha un suo food truck bella luna. L'ho ripreso qualche volta, sono andata a lavorare con lui. e, pure lui, purtroppo, ha una persona che ha detto che non, come si dice, non lo aiuta più. E quindi mi ha chiesto a me se potevo dargli una mano. Giustamente, il lunedì. Ok. Ho lasciato il lavoro. Ecco, ce n'ho subito un altro. Ok. Però adesso, vediamo, gli ho detto di sì, però adesso finché, ecco, non trova nessuno. perché, come ho detto prima, mi piacerebbe avere due giorni liberi. Anche perché, se no, devo fare tutto in un giorno, devo sempre correre, non ce la faccio fare i video. Mi serve tempo per me, diciamo. E quindi, tutto a posto così. Oh, ciao Federica! Ciao, 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 ciao. Ed ecco qua. Da Party VR tutto a posto, tutto continua benissimo alla grande. Anzi, c'è molta più richiesta di pizza adesso, perché vedono che è diversa, che è buona, che è fatta bene. Per lo meno mi dicono così, quindi io sto a quello che mi dice la gente e quindi adesso tante tante pizze faccio, tante tante. E spero che prima possibile, titolare, mi compri o un altro forno, che così ne ho due, che come sia non è tanto difficile da regestire, o uno più grosso, perché uno alla volta di pizza comincia ad essere, diciamo, un po' pesante. In ogni volta devo salire, scendere dal food truck. È un po' pesantino, uno alla volta. Quindi speriamo bene. Io ho fatto questa richiesta e chissà se un giorno adesso mi arriva questo forno nuovo, qualcosa, comunque sia, vi terrò giornati, ve lo farò sapere. E quindi questo qui è un'altra cosa anche che ho chiesto qua al lavoro, perché è difficile, è difficile adesso fare tante pizze. E sono da sola. Speriamo che arrivi presto con questo forno. Mannaggia! Questo è il vento di Santa Monica che arriva fino a qua. Chi c'è? Ah, una smash pizza. Mi vogliono tutti. Eh sì, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono. Ciao Anna Maria, ciao ciao ciao, tutto bene, grazie. Wow! Un abbraccio dalla Sicilia. Grazie mille, bella la Sicilia. Speriamo che adesso lì, con l'arrivo dell'estate andrà tutto bene per il turismo. Letizia, letizia, hola, tutto buon? Yes! Tutto bene, tutto bene, Letizia, tutto bene. Allora Federica, ma da voi c'è il coprifuoco? No Federica, no no no, qui, anzi, devo dare anche questi aggiornamenti. Qui, dal 15 di giugno, dovrebbe, si dice, ma non lo so, quindi dovrebbe, si dovrebbe aprire la capacità di tutti i negozi, tutti i ristoranti, al 100%, anche i posti ecco seduti, fuori, dentro i locali. dal 15 giugno dovrebbe essere aperto capacità 100%, totale, e si potrà andare in giro e stare senza mascherina. Però vediamo quello che succede, non lo so, io spero bene, e comunque sia anche, se dal 15 si aprirà al 100% la capacità di tutti i ristoranti, l'ho allora, e sì, che la prossima settimana avrò, avrò veramente da fare, e forse dovrò chiedere una mano, un aiuto. Allora, quando farai un nuovo video dal lavoro? Eh, presto, presto, adesso mi volevo mettere d'accordo con, con Matthew, quel ragazzo che lavora qua con me, che, volevo fare una cosa carina, mettere sul, sul trepiedi, diciamo, il cellulare dopo sempre acceso, che riprendeva, per un po' di tempo, quello che facevamo, quello che facciamo, quando parliamo, tutte queste cose qui, diciamo, come una live, ma invece è registrata. E, quindi, penso presto, presto di fare questo bel video, e, così conoscete anche un mio collega, che è, questo ragazzo, fratello, di un ragazzo, che lavora da adesano. quindi, è stato tutto, tutta una conoscenza, conoscenza, conoscenza. E, così, una strana SPA, presto, presto, farò, spero di fare, questo video, lì dal lavoro, che lascio, diciamo, il cellulare, sempre lì acceso, che riprende, un po', un pezzettino, della, della giornata, lì nel food truck, e dopo, lo posterò, lo posterò, però prima, questa settimana, per quel pochino di tempo, che adesso che ho, perché, come avevo detto, ho solo un day off, speriamo, dalla prossima settimana, vada meglio, e, adesso, questa settimana, farò il video, della motivazione, diciamo, perché, ecco, sono, ho chiudo definitivamente, con Desano, e quindi, è così, poi, non so se avete notato, nel titolo, con, il pasta truck, celeste italiano, di, Emanuele Filiberto, di Savoia, che io non lo sapevo, che aveva un pasta truck, me l'ha detto, ieri, Max, che sono andata a lavorare, con lui, la sera, infatti, ieri, anche, doppio turno, fatta, la mattina, Desano, che ho detto, l'ultimo giorno, e più pomeriggio, mi dispiace, e sono contenta, però, Max era rimasto da solo, e, mi ha chiesto, se potevo, aiutarlo, dare una mano, e, lavorare con lui, fino alla sera, e gli ho detto, ok, Karen, dai, l'ultimo sforzo, tutta la giornata, non importa, dopo, dalla prossima, due day off, non, diciamo, non ce ne importa niente di nessuno, anche se già, Max mi ha detto, che forse servirà anche, lunedì prossimo, sempre alla sera, però almeno, non lavoro la mattina, e mi riposo, e quindi, stavo dicendo, con Max, ieri sera, nel food truck, mentre avevamo un po', un minutino, libero, così, di guardare, col cellulare, i messaggi, e quant'altro, dei video, mi ha fatto vedere, questo pasta truck, di Emanuele Filiberto, che io non sapevo, che c'era qua, e che adesso, è in vendita, e, me l'ha mostrato sul cellulare, perché lui ha detto, che ci sta facendo, un pensierino, per comprarlo, quindi, anche voi, se lo avete comprare, e venire qua, aprire un pasta truck, 35 mila dollari, non sono pochi, ma non sono neanche tanti, perché, di solito, questi food truck, che costano abbastanza, c'è da, mi ha detto Max, che c'è da mettere dentro, a posto, qualcosina, ma, però ecco, il prezzo è buono, 35 mila dollari, e lui mi ha detto, che già l'è andata a vedere, infatti, mi ha fatto vedere, il video dell'interno, tutto carino, messo a posto, già predisposto, ecco, con i bollitori, e tutto, per fare la pasta, mi ha detto anche, che, c'era, diciamo, su un, sul lato, della pasta truck, su un, sul bancone, la macchinetta proprio, per fare la pasta, che facciavano anche la pasta fresca, però quella lì, l'hanno ripresa, e l'hanno portata via, quindi adesso lì, il pezzo del bancone è vuoto, però, ci si può fare qualcos'altro, e, quindi, molto, molto bello, andatelo a vedere, si chiama, Prince Venice, è blu, con, diciamo, il tricolore della bandiera italiana, che fa un po' da, tipo, da, da sfondo, col blu, è molto, molto carino, e, sai, che, che dire, se, adesso, perché purtroppo, cioè, purtroppo, per fortuna, per me, ho cominciato, questo lavoro, che, mi va benissimo, sto bene, così, sto a posto, non chiedo di più, però, ecco, Max, quando me l'ha detto, ho capito, sotto sotto, che, sperava, e pensa, forse, di comprarlo, e di, e mi ci voleva mettere a me, diciamo, perché, dopo lui servirà, una persona che sta lì, fa la pizza, e lui che andrà a fare, in questo food truck, la pasta, e, quindi, mi dispiace, Max, adesso, sto bene qua, se capitava, e se era successo prima, forse, sì, ci potevo pensare, anche io, comprarlo, perché, è un buon affare, e, diciamo, i soldi, per, dopo, per, che hai speso, per adesso, questo pasta truck, diciamo, te li rifai facilmente, qua a Los Angeles, quindi, più o meno, anche se, ecco, dipende, bisogna far, capire, conoscere, ecco, la pasta, vari tipi di pasta, però, ecco, sapete, voi qui in America, tutti, a tutti piace, avere le cose, già fatte, pronte, cotte, to go, quindi, da mangiare a casa, senza cucinare, senza sporcare cucina, quindi, forse potrebbe andare, e spero, per Max, che, lo possa comprare, che possa metterci, ecco, una persona, vediamo un po', vediamo un po', oppure lo compro io, ah 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 ah, ok, vediamo un po' chi ha scritto ancora, ah, Joe Fox, ciao ciao Joe Fox, ciao ciao ciao, ciao Luigi, ciao 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 Luigi, ciao ciao, eccoci qua, il video di Santa Monica, era stupendo, oh grazie mille, peccato, mi dissiace ragazzi, peccato, quel giorno, era nuvolosissimo, freddissimo, proprio, ho scelto, il giorno sbagliato, forse per andare, però, ho solo un giorno, quindi, purtroppo, era solo quello, che potevo andare a Santa Monica, mi dispiace, ci ritornerò, comunque sia, ve lo farò vedere, con il sole, anche se l'avete già visto, però, come sapete, a me piace, è bello andare al mare, ok, l'elicottero, proprio qui sopra, adesso, devo passare, che non sento niente, polizia, sento pure le sirene, e, Federica, chissà, quando, quanto, lo faceva pagare, un piatto di pasta, eh Federica, non lo so, non lo so, non lo so, però, sono andata a vedere, delle immagini, su, cercato su Google, non sembrava male, però, ecco, il costo, non lo so, non c'era scritto, forse, si può trovare il menu, di quello che è rimasto, però, se ha chiuso, e, se, vende, un motivo ci sarà, forse non andava tanto la pasta, oppure era situato in un posto sbagliato, non si sa, non si sa, non lo so, adesso vediamo, ha riato il postino, e il cane qua, Genna, baia, ha una senata più a pasta reale, eh sì, una senata più a pasta italiana reale, yes, e quindi, eccoci qua, che forse, forse, Max ha detto che ci sta pensando di prenderla, hi, hello, thank you, you too, il postino mi ha augurato buona giornata, e stavo dicendo, Max ci sta facendo un pensierino, vediamo come va a finire, spero per lui che forse, se c'è la possibilità di prenderlo, almeno da anche lavoro, altre persone, perché, per quanto, diciamo, riguarda a me personalmente, ok, sì, lavorare al ristorante, con le persone dentro, al tavolo, tutto, mi fa piacere, però lavorare nel food truck è un altro tipo di esperienza, hai proprio veramente il contatto davanti e di fronte al cliente, quindi è bello, è un'altra cosa, è una cosa diversa da stare, al ristorante, fare le pizze dentro al ristorante, che anche ti guardano, ti vedono e tutto, ma comunque stai lontano dal cliente, non interagisci, cioè interagisce il cassiere, e qui invece per me è più carino e diverso, infatti mi piace, sono contentissima di aver trovato questo posto, party beer, party beer, venite tutti a Los Angeles, quest'estate a party beer, su Jefferson, allora, poi chi c'è? Allora, la pasta è sempre successa, e la macchina deve essere, rigosatamente, marca Imperia, eh sì Luigi, eh sì, non so che macchina della pasta c'era, perché c'è un'immagine che ho visto sempre su Google, però non si vede la marca, però ecco è un peccato, perché sì, fare la pasta fresca, direttamente dentro il food truck, sarebbe stata veramente una cosa più carina e più artigianale, quindi, però, può darsi che costava tanto e l'hanno ripresa, e va bene. Comunque, questi, che ore sono? Io avrà che tra poco vado, perché se no, la mia giornata vola, e ho solo oggi, come vi ho detto, quindi, devo correre, 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 fare tutte le mie cosine, in un giorno solo, e, siamo in 12, wow, wow, 13, wow, mi raccomando ragazzi, pollicini, condividete, che finalmente sono arrivata a 1500 iscritti, wow, contentissime, grazie a tutti, e, però, ne voglio molti di più, ne voglio molti di più, eh, quindi, forza, quest'estate, scatenate l'inferno, allora, una stessa pia, dovrebbero, prendere i tuoi vecchi con quilini, che già facevano la pasta, eh, anche, anche, io lo posso, lo posso proporre, sa? Sì, è vero, è vero, una stessa pia, hai ragione, imperia e storia italiana, Luigi, eh sì, eh sì, eh sì, te li meriti, grazie mille, grazie mille Luigi, grazie mille, tuuuuutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, siete sempre tanto, carini, affettuosi, eh, mi iscrivete sempre, io cerco sempre di rispondere a tutti, e, voi non mancate, però, per il video di, eh, venerdì o sabato, dipende, quanto, tempo, ho a disposizione, per montare il video, vediamo un po' quello che riesca a fare, che lì vi spiegherò, anche la, perché, veramente, a prescindere dal giorno libero che volevo io, ma perché sono andata via, adesso, da Desano, e quindi ecco qui ragazzi, questa è la novità, vi farò sapere dal 15 giugno, qui, come funziona, cosa succederà, vi farò vedere il locale nuovo, cioè, se apriamo al 100%, vi farò vedere la gente che c'è, la capienza, spero di fare tanti video, vi farò sapere se si può togliere la mascherina, dal 15, e, quant'altro, niente, per adesso, tutto, tutto, questo è l'aggiornamento, e ci vediamo, al video di, allora, Federica, hai dei buoni benefit in questo nuovo lavoro? Quelli normali, benefit normali, quelli di, di un contratto normale, non ho niente di speciale, di assicurazione medica, denti, oculistiche, qualquant'altro, l'assicurazione, diciamo, di base, di qui, non ho, non ho, non ho tanto di più, ecco, tanto, diciamo, una birreria, non è, come vi posso dire, lavorare, ecco, da Starbucks, o quant'altro, che sono, cioè, sono compagnie più grandi, questo è solo una, diciamo, un titolare, che ha fatto solo una birreria, che, giustamente, ha abbinato anche il cibo, alla birra, quindi, non, non ho niente di particolare, niente di, diciamo, di, di benefit importanti, e quindi, ma mi va bene così, non mi importa, non mi importa, l'importante è che il lavoro c'è, l'importante è che io sto bene dal lavoro, che mi diverto, che sono felice, e che sia ben retribuito, ok, resti in attesa, grazie, è un piacere, certo Luigi, allora, è un piacere anche per me, ciao a tutti, adesso, devo andare, ci vediamo ai prossimi video, e le prossime live, un bacione da Los Angeles, mi raccomando, pollicini, condividete, fate, speriamo, che, questo canale, cresca, 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 quindi, ciao Federica, ciao Luigi, ciao Nostra S.P.A., ciao Gio Fox, poi quant'altro, ciao Letizia, ciao No Maria, ciao a tutti, un bacione, da Los Angeles, ciao, 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 ciao,